Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e ben trovati in questo nuovissimo video. Oggi nell'aggiornamento odierno andremo a vedere dove stanno per esplodere dei maxi temporali perché da qui a poco i rischi di forti nubi fragili, tempeste e conventi di Downsport e possibilità anche di grandine e nubi fragili come detto sta per arrivare. Insomma tutto questo analizzeremo nel video di oggi ma prima di cominciare come sempre se sei interessato a previsioni meteo precise, dettagliate ed affidabili minuto per minuto proprio per il tuo territorio, come vedi in questo video sei sul posto perfetto. Infatti per avere tutte queste informazioni al costo sentiti di 0€ che è totalmente gratis e tutta disponibilità di un click vi basta iscrivervi al canale, cliccando il tasto e iscriviti qua in basso a destra lasciare un mi piace e attivare la campanella per ricevere sempre le notifiche in tempo reale. Bene detto questo iniziamo subito dal vedere la situazione meteorologica in questo esatto momento cioè l'Italia in questo momento come sta la situazione. I primi temporali si stanno sviluppando soprattutto sulla zona alpina e prealpina del Piemonte, della Lombardia, da tratti del Veneto, del Friuli e soprattutto della Valle d'Aosta. Durante poi il corso del pomeriggio questi temporali rischieranno e ci sarà un'altra possibilità che riescano a sconfinare sulla pianura quindi durante il tardo pomeriggio i forti temporali potrebbero andarsi a creare anche su parte dell'Appennino Ligure e Tosco Miliano e durante la serata questi temporali potrebbero interessare le aree pedemontane e anche pianeggianti della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Piemonte e anche della Valle d'Aosta. Località che invece potrebbero essere colpite in maniera un po' meno intensa ma che rischiano forti rovesci sono soprattutto le aree interne del Trentino, del Veneto e del Friuli dove qua però rispetto a qualche giorno fa non ci dovrebbe essere il pericolo dell'arrivo di questo maltempo lungo la linea costiera. Attenzione soprattutto alle regioni come Mila Romagna, Piemonte, aree interne di Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia dove localmente si potrebbero andare a creare delle vere e proprie supercelle con forti venti e anche rischio di nubi fragili molto molto lampo. Ecco, proprio in queste aree durante il loro passaggio le temperature potrebbero crollare passando da circa più 38 gradi a termiche fino anche a più 25 gradi quindi durante il loro passaggio le temperature potrebbero in tutti i sensi crollare. In questo momento i temporali si sono formati lungo la linea alpina e prealpina del Piemonte, della Valle d'Aosta e nelle prossime ore si continueranno a sviluppare anche su Trentino e Friuli. Come detto proprio adesso le aree e le città che potrebbero rischiare fenomeni intensi ricordo questo essere un'area abbastanza grande perché con precisione non possiamo saperlo però i rischi di forti rovesci si possono avere nelle aree dell'Astigiano, dell'Alessandrino, del Pavese, anche del Bresciano e del Bergamasco. Possibile anche nella zona del Milanese qualche locale temporale e poi altre aree molto pericolose sono tra Cremona, Piacenza e Parma. Ecco, proprio in quest'area ci sarà il rischio anche di forti temporali durante poi il tardo pomeriggio. Per quanto riguarda invece il Trentino, il Veneto e il Friuli, ecco queste precipitazioni i rischi che possono diventare molto intensi sono soprattutto tra la zona del Belluno, di Cortina e poi anche di Udine. Insomma questo è questo più o meno triangolo che si va a costruire. Gli accumuli, ecco gli accumuli andiamo a vedere fino a quanto potrebbero arrivare. Ricordo questo essere più o meno all'inno generale gli accumuli attesi durante le prossime 19 ore, quindi durante tutto il pomeriggio di oggi e la nottata. Ecco, accumuli più abbondanti sono lungo la zona del sud del Piemonte e poi tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, dove localmente gli accumuli potrebbero superare anche i 90 mm di pioggia in pochissimo tempo. Quindi se siete in queste zone mi raccomando mettete se possibile le cose a riparo per eventuali eventi atmosferici intensi. Quindi emaniamo all'erta arancione soprattutto su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Le aree costerne non dovrebbero essere interessate ma soprattutto le aree interne e quelle vicine alla zona alpina bisognerà attenzionarle perché ecco qui i fenomeni potrebbero diventare molto molto intensi. Il rischio anche di grandine che però non dovrebbe essere di grandissima dimensione. Ecco questa è tutta l'informazione, passando una breve parola per il centro-sud. Invece qua l'allerta più che per la pioggia è per il caldo. Infatti fatemi dire due parole anche per gli amici del sud che vedranno temperature veramente molto alte nella giornata di oggi ma soprattutto sulle aree centrali dove tra Toscana, Umbria e Lazio ma soprattutto Sardegna qua i valori massimi potrebbero superare di gran lunga i 40 gradi e arrivare fino anche in alcune zone a 42-43 gradi. Quindi caldo molto molto intenso e forse una delle giornate più intense a livello di temperature. Ecco detto questo io vi ringrazio della visione. Come sempre se siete interessati a previsioni meteo precise, affidabili, dettagliati come in questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per ricevere sempre notifiche in tempo reale. Dal Meteo Italia è tutto, buon proseguimento e buona giornata.